Operazione della Guardia Costiera di Salerno e Maiori, che ha sequestrato ben tre quintali di tonno rosso pescato in modo irregolare lungo tutta la costiera amalfitana. L'attività di controllo, finalizzata a contrastare il fenomeno della pesca di Frodo, ha visto la partecipazione di dieci uomini che con l'utilizzo di telecamere e supervisori notturni sono riusciti a pizzicare i pescatori di Frodo. Uno di loro in particolare ha provato a fuggire per le stradine di Maiori, scappando a bordo di un ciclo motore e portando con sé 20 tonni rossi, venendo bloccato poco dopo. I tonni sequestrati sono stati classificati come animali allo stato giovanile e quindi protetti. Al termine dei controlli sono stati redatti due verbali amministrativi per complessivi 15.000 euro.